Buongiorno a tutti, sono Fulvio Calisi, sono un chirurgico di sangue che lavorano nella zona di Napoli e sono involvato nel transparante sangue per molti anni e faccio la chirurgia epitobiliare e la chirurgia pancreatica. Quindi ho chiesto di presentare un'esperienza speciale per il mio lavoro e ho deciso di mostrare al pubblico un film che riguarda una malattica malattica, che è un problema che può succedere nelle ruote operatore. Questo è stato particolare perché ho potuto mostrare il momento in cui la chirurgia era fatto e come, dopo, in le mie mani, si era riparato. La lezione che abbiamo aprenduto da questa piccola esperienza è che, infatti, i problemi possono succedere anche per i surgeons esperienti. come una pubblicazione di inglese, come una pubblicazione di inglese. E quindi la chirurgia per un'intervenzione semplice come una cholecystectoma potrebbe ancora necessario di inglese. La chirurgia per un'intervenzione semplice, come una pubblicazione di inglese. La chirurgia per un'intervenzione semplice, come un'intervenzione semplice, come una pubblicazione di inglese. Come un'intervenzione semplice, come un'intervenzione semplice, come un'intervenzione semplice. come un'intervenzione semplice, come un'intervenzione semplice, come un'intervenzione semplice, come un'intervenzione semplice. Ho spero di essere un'intervenzione di molti i surgeons, che stanno attendo a questo momento molto importante in Udine, in ottobre. Grazie. Grazie a tutti.